Alessandro sei un cittadino arrivato da poco qui a Montelabate e appena sei arrivato hai trovato davanti a te una scena che magari non ti aspettavi ovvero quella di lavori incompleti, di una struttura, di una gru in uno stato avanzato di arrugginimento insomma una scena che non pensavi di trovarti di fronte Sì esatto, come dicevi tu sono qui da poco e mi trovo davanti a questo, proprio di fronte a casa mia vedo che state lasciate, forse questa zona aveva dei lavori che non sono stati conclusi da tempo ma ormai come potete anche vedere è tutto arrugginito, è stato lasciato anche in ordine però ci sono parecchie ferraglie, questa gruppo forse anche pericolante qui da chissà quanti anni quindi a livello sia ambientale che a livello civile mi trovo insomma in difficoltà nel vedere ancora queste cose ora che ci stiamo avviando anche per una svolta diciamo ecologico comunque di ripristino dei patrimoni o comunque del territorio è comunque non una cosa bella da vedere, forse neanche sicura dato che la zona qui da tanto tempo mi hanno detto che queste costruzioni sono ferme andrebbero anche magari valorizzate un po' in qualche modo Tu ovviamente ti sei informato con i cittadini che vivono qui da prima di te Cosa hanno detto loro? È una situazione che può essere risolta? Loro non sanno cosa dire, vedono che la situazione è così da tanto tempo anche loro forse qualche anno fa si sono chiesti qualcosa ma non hanno mai ricevuto risposte di che io ripeto sono qui da poco quindi ecco l'unica cosa che mi sono sentito di fare è segnalarlo a voi per vedere se qualcosa magari si può muovere in breve tempo E poi c'è anche la struttura del centro commerciale che non è operativa in molti punti non si sanno, non conosci magari bene i motivi però è sempre una situazione di degrado che è presente in questa zona e che potrebbe essere sfruttata in maniera diversa Esatto, sicuramente qui qualche attività è riuscita a partire per qualche motivo che ripeto ignoro perché comunque la struttura è qui da tanto tempo, non ha avuto probabilmente lo sviluppo che ci si aspettava forse con la nascita di un supermercato, non so, c'è una parrucchieria, una piccola palestra, un ristorantino però ecco tutto quello che c'è sotto ci sono svariati metri quadrati di libertà di cose che si potrebbero sfruttare a livello sociale, che ne so, economico adesso anche magari con i nuovi fondi che dovranno arrivare dall'Europa non so, in qualche modo il comune potrebbe attivarsi per dare uno sbocco di un miglior utilizzo anche per un po' di degrado, un po' di abbandono c'è ovviamente un punto anche di raduno serale, nel weekend di qualche ragazzo che sapete poi magari con qualche bicchiere in più a volte si fa trascinare e non lascia stare quello che dovrebbe essere il patrimonio di tutti nonostante, perché ovviamente l'abbandono fa un po' questo effetto di fronte a casa mia appunto sto in un condominio qui proprio a pochi metri c'è questo silos, anche questo arrugginito, una cappana degli attrezzi vecchia ma non c'è niente in costruzione, i condomini sono già stati tutti costruiti sembra che non ci siano lavori da portare avanti, anche quello sarà lì almeno da 10 anni 12 non saprei, però è tutto arrugginito è un punto dove vanno anche i ragazzini a giocare, le persone col cane per farlo un po' divertire quindi anche quello comunque è un punto che magari è frequentato e potrebbe succedere qualcosa adesso ci auguriamo di no, però non si sa mai ma anche soltanto per l'ingombro e per la bruttezza di avere un ingombro nel mezzo arrugginito direi che sarebbe ora di toglierlo in qualche modo quindi a chi di dovere, può essere il comune o qualche altra autorità, cosa chiedete? Sicuramente di venire a verificare i fatti e poi procedere più velocemente possibile con quello che può essere fatto a livello ovviamente amministrativo, legale, non so con gli ambientalisti, con un discorso AMI di raccolta di rifiuti, non so anche perché giustamente i cittadini normalmente pagano delle tasse per far raccogliere i rifiuti anche loro devono fare una raccolta differenziata però ci troviamo i comuni e le amministrazioni che lasciano all'abbandono rifiuti per molti anni anche magari pericolanti o comunque sicuramente non belli da vedere